L'accensione delle 100.000 luci a LED sparse su tronco e rami è prevista per il prossimo 27 novembre, giorno in cui Piazza del Popolo darà l'avvio ufficiale al Natale 2021 in città. E nulla di più simbolico col countdown per dare questo avvio e rappresentato dalla biete che già da venerdì scorso è issato nell'area apposita davanti al palazzo comunale. Qualcuno inizialmente aveva azzardato chiamandolo Spelacchio per via dei pochi rami con cui si presentava, poi aggiunti in corso d'opera. La biete, alto 16 metri, ha circa 40 anni e suo destino era assegnato e stato fatto tagliare dai residenti di un condominio di Villa San Martino, poiché con le sue radici stava creando danni a fogne e pavimenti. Ora i pesaresi si dividono tra chi lo apprezza e chi invece avrebbe gradito qualcosa di diverso. Bisogna dire che i giardinieri sono stati molto bravi a ritirarlo su, a ridargli una forma di diabete a cono, bisogna dire solo questo, ma quanto l'ho visto la prima volta lì era da mettersi le mani nei capelli. Per me è un simbolo, io avevo anche io a vederlo, mi piace anche vedere le opere che stanno facendo, il tempo se non altro che ci impiegano vuol dire che lo fanno bene o ci sono dei problemi, ma comunque per me l'albero è importantissimo. Sì, è un po' pescheracchiato, sì non è male, però non è meraviglioso ecco. È il più bello di quello di Milano, perché quello di Milano è fake, questo invece è vero. È un buon albero, ben folto e non è ancora decorato, quindi aspetterei prima di dire qualunque cosa. Hanno riattaccato i rami, quindi lo stanno curando bene e sarà bello come tutti gli anni. 96.000 luci, è uno dei più illuminati d'Italia, quindi è sempre una bella opera.